La sessione estiva di calciomercato si è chiusa a mercoledì scorso, ma il capitolo rinforzi per il Pescara non è chiuso in maniera definitiva. Per gli svincolati c'è l'opportunità di firmare anche al di fuori della parentesi di luglio-agosto e proprio a quel fronte il Pescara continua a sondare. Così per l'attacco non è tramontata l'ipotesi Gonzalo Bergessio. L'attaccante argentino non ha trovato l'accordo col Palermo e resta appetibile per il Delfino. Tuttavia l'ingaggio percepito con la ex squadra, l'Atlas Guadalajara, si aggira sul milione e mezzo di euro. Anche se Bergessio dovesse abbattere molte delle sue pretese, non sarebbe facile portarlo in rival adriatico. Resterebbe una discreta distanza tra domanda e offerta. Sul fronte della difesa il giocatore monitorato è Moby Do di Akite. Il giocatore francese già indossato, giovanissimo, il biancazzurro, debuttando in Serie B nel 2006 prima di essere ceduto alla Lazio dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera prima di una serie di cambi di squadra. Solo lo scorso anno, prima parte a Frosinone, seconda parte con la Sampdoria. Si lavora per trovare un accordo per questa stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Intanto la squadra oggi e domani sarà a riposo. Il tecnico Oddo ha approfittato della sosta per dare respiro alla rosa anche se saranno giorni intensi per i nazionali. Gjomber con la Slovacchia, Memushay e Maraj con l'Albania, tutti impegnati nelle qualificazioni al mondiale. Verre e Vittorini rispettivamente in under 21 e under 20. La settimana si è chiusa con la buona notizia per Oddo del rientro in gruppo di Michele Fornasier. Le buone indicazioni date da Aquilani e Baibach nel test contro il San Nicolò fanno sì che per il posticipo serale di domenica 11 contro l'Inter, Oddo potrebbe avere quasi l'intera rosa a disposizione. Match di Blasone che potrebbe giocarsi davanti ad una cornice di pubblico da tutto esaurito. Saranno in vendita da lunedì mattina i tagliandi della partita presso il circuito Ticket One o negli store ufficiali di via Regina Margherita o al centro Porto Allegro di Montesilvano. Grazie.